Giulio del mio cuore, buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon mercoledì. Ho fatto una mini spesa a Penny Market e vi faccio... Allora, ho speso 37 euro e vi faccio vedere quello che ho comprato. Allora, vi riconsiglio le frizzere di Penny Market 99 centesimi quando onestamente in tutti gli altri supermercati arrivano a 3 euro e qualche supermercato anche a 3,5. Ci sono tonde e ci sono in forma di barchetta. Io ho preso integrale, c'è anche quella normale. 99 centesimi, 6 frizzere, buonissime. Ho preso due ricotte Santa Lucia, in questo modo. Ho preso un pesto, questo è con ario. Ho preso questo pane che è meraviglioso, multiceriale, è pazzesco. Io lo uso tanto anche la mattina per colazione, lo uso nelle zuppe, buonissimo, vi lo consiglio. Allora, ho preso salmone affumigato, quello però selvaggio. Non quello ho allevato, sì che è buonissimo, anche dal colore si vede. Bresaolina. Ho preso queste che io le uso, tanto sono filetti di sgombro. Questo è piccante e questo è normale, l'olio d'oliva. A me quelle al naturale fanno schifo. E io voglio mangiare con gusto, chiaramente in questo momento chi mi segue lo sa che sto facendo un piano alimentare. E queste le posso mangiare, le scollo bene, è perfetto, non le metto altro olio. Ma quelle al naturale io non so come a voi, ma a me fanno davvero, davvero schifo. Non mi piacciono. E ho preso queste due, sono fatte al vapore. E vedremo come sono. Ho preso i peperoni, io prendo questi perché sono piccolini, li posso fare ripieni, li posso fare alla griglia, al forno e li adoro, sono croccantissimi. Ho preso gran biraghi, questo che a volte la mattina, sapete, io amo la colazione salata a maggior parte e faccio dei tosto, magari dei mini panini. E questo l'ho preso lì. Petto di polo. Allora, partiamo dal presupposto che al Penny Market hanno una macelleria, hanno della carne buonissima. Queste che trovate in confezione giale, è ancora più buona. Io prendo petto di polo non affettato, già affette, perché costa di più. La solita quantità viene a costare un euro, quasi e mezzo in più. Io prendo questo pezzo e poi da me lo sfiletto. Ho preso lo zucchero. Ho preso un chilo di mascarpone, perché devo fare due tiramissone, uno lo regalo. E l'altro è per casa, perché chiaramente non tutti sono a dieta. Ho preso la passata di pomodoro. Ho preso questi tipo pavesini per fare il tiramissù. Ho preso queste baguette che le tengo in casa, che a volte quando si rimane senza pane le butto nel forno. Sono buonissime. E poi ho preso quattro bottiglie d'acqua, un livetto. Tutta la mia spesa è questa. Giugiole vi mando un bacio, sto cucinando ora, dopo vi posto giorno per giorno, come finora, la mia alimentazione. Vi mando un bacio, se vi fa piacere lasciatemi un commento, un mi piace. A voi non costa niente, invece ci aiutate tanto 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 me a crescere. Ciao!